Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo vinto anche la settima medaglia della Lega di Sinnoh e purtroppo abbiamo anche scoperto che il team Galassia ha recuperato l'ultimo Pokémon del lago, cioè Uxie, al lago Argusia e ci hanno intimato di non farci vedere all'edificio di Rupepoli, ma noi è quello che vogliamo fare, è entrare nell'edificio di Rupepoli, ma come facciamo ad entrare? Non penso che ci lasceranno entrare così a caso. Ok, questi qui dicono di sfruttare l'energia, eliminare l'inutile, questo lavora 24 ore al giorno, morirà prima, ma poi... Attenzione, questa recluta si ricorda di noi, gli hanno rubato con le ferie, suo socio ha smesso di lavorare ed è tornato nella casa in cui è cresciuto. Io non so niente di questa chiave del magazzino, ma cosa? Ma perché? Vabbè, intanto noi prendiamo la chiave del magazzino, quindi sappiamo dove andare ora. Al magazzino, giusto? L'unico modo per andare al magazzino... Ah, aspetta però, ora che ci penso. Beh, possiamo prenderla finalmente. Qui c'è la parete rocciosa che deve essere scalata con un bibarello. Perfetto, tatino, e vediamo cosa c'è qui dentro. C'è un mint. Oh, gonfio Roma che serve per far fare a Snorlax e a ditto volendo. O meglio, io ho provato con due Snorlax, che poi ve lo raccontai anche qualche episodio fa, l'aneddoto, che con Snorlax dai gonfio Roma e ti fanno un uomo di Manchelax, se non vuoi perdere tempo a grindare gli alberi di miele per cento volte. La porta è chiusa, usiamo la chiave del magazzino. Si gira, ma a me pare più una porta che si apre in maniera automatica, elettronica, quindi la chiave come fai? Che serve girare la chiave? Troviamo la nero pietra, questa per far evolvere Dusclops in Dusknoir, top. Ok, ci sono diverse vie a quanto pare. Vabbè, il level design di Sinn è particolare. E cosa abbiamo qui? Un allenatore che si è perso per strada? No, caro mio, non mi sono affatto perso. So benissimo dove sto andando a parare, più o meno. Non ricordo di preciso la via, ma dovrebbe essere questa. Comunque esplorerò tutto quanto l'edificio, perché serve. Ci sono molti strumenti interessanti nascosti al suo interno. Inoltre è anche un buon modo per allenare LZ129, anche se ci prendiamo un botto di danni. E palla ombra è andata verso l'avversario in alto. Ok, sta cosa non me l'aspettavo. In genere, Creatures quando crea le animazioni per le tecniche e per gli attacchi, le dirige in un punto preciso. Invece qui proprio segue il Pokémon. Però Golbat ha le ali, quindi le ali risultano più in alto, fanno risultare il suo baricentro. Ok, è un po' strano, eh. Il suo centro, non il baricentro, il centro del suo corpo. Quindi Golbat statico sarebbe con le ali alzate. Ma avrei scelto diversamente, ma va bene anche così. Ok, flacone di zinco, buono. Poi qua giù... Ok, devo assolutamente curare che è avvelenato. Questa cosa che il veleno non dà fastidio quando cammini, l'hanno implementata nella quarta... Anzi no, nella quarta gen, a dire vero, hanno implementato che il Pokémon rimaneva con un PS. Il che è anche giusto, volendo. Invece è nella quinta o nella sesta che hanno messo che è veleno mentre cammini non dà problemi. Ed è giusto. Cioè, perché dovrebbe dare problemi quando sei al giro? Comunque, al 629 si sta andando da fare, non male. Manda bronzolo. Oh, perfetto, bronzolo, acciaio psico, con un attacco e via. Allora, questa mi sa che è la strada giusta, vero? Boia. Anzi no, perché andare indietro? Bisogna continuare. Non ha nessun Pokémon, è l'ultimo andello della catena. Vabbè, non sa nemmeno sarete trasporto. Beh, nessuno lo sa usare, veramente. Ah, ma intendi pannelli! Eh, allora è diverso. Non si può andare avanti sotto, perché dobbiamo prima prendere un'altra chiave speciale che apre la porta di sotto. Un po' complicato, ma ci si arriva, dai. La recluta, ma nel campo Glemiao. È bello come Glemiao da un Pokémon sinuoso diventi un ciccione sgravato. Però deve anche essere morbidoso ad abbracciare. Quale teletrasporto prendiamo però per prima? Perché vorrei esplorarmi ovviamente tutto. Eh, mi sa che ci siamo, eh. Sì. Beh, ovvio. Che voglio prenderla. Idrovampata. Ok. No, stavo pensando che quando si trovano le MT singole sarebbe bene fare il menu glitch in modo da non sprecarle. Beh, il menu glitch è un modo anche per avere caramelle rare infinite, anche se ne hai solo una. Non spiegherò nel dettaglio come funziona, ma non lo abuserò. Non ci penso minimamente ad abusare del menu glitch. Voglio che questa run sia più pulita possibile. Anche perché non c'è gusto a giocare avendo tutto già sbloccato. Cioè, che serve? Arrivi nei primi percorsi con livello 100. Finita. Un po' come chi gioca Pokémon competitivo e spade e scudo neanche li ha provati. Eh, però sono giochi di merda quelli. Quelli va bene. Quelli vanno bene a non giocarli. Ma usare subito il PKX. Ah, ma qui... Ok, ci sono delle Pok... Uh, fangobomba! Uhuh! Il mio era solo un piccolo rantolio. Hai trovato chiave galassia e possiamo aprirci questa porta? Che cazzata pazzesca questa. Ma che ti giri, uh, che ti giri. Ah, ok. Ok. Quello non voleva... Chissà che stava a fare lì. Cioè, è una recluta, ma che fa la guardia? Cosa faceva? Non lo so. Non lo saprò mai. Me ne torno alle piattaforme. Sto quasi per essere rossa comandante. Tu sarai il mio ultimo trofeo. Quindi sareste quattro comandanti, poi, vero? Diamo po' che Pokémon hai per essere un comandante del team Galassia. Ah, parpol. Proseguiamo, quindi. Uh, le porte chiuse si possono aprire solo con una chiave speciale. Eh, non sa davvero dove sia. Ma non ci serve sapere dove sono. L'abbiamo prese. Dovremmo prendere l'ultima per poi entrare dalla porta principale dell'edificio, se non sbaglio. Cioè, questo è l'edificio, però l'altra porta... Quella... La vera porta, no? Proseguiamo, allora. Dai. Oh, attenzione. Il motto del team Galassia? Tutto appartiene al team Galassia. Guarda oltre i confini del mondo. Lo spazio diventerà del team Galassia. Se vi chiamate team Galassia... Ma quello doveva fare la guardia davanti si girava. Perché si è girato? Non c'era spazio per passare dietro. Aveva paura della sombra. La cosa bella di questo episodio è che ci sarà tantissima lore riguardo Cyrus e non vedo l'ora. Stiamo per arrivare, stiamo per arrivare. Manca davvero poco. Scoppio ha fatto dei danni ingenti, accipicchia. Ne ho anche le mie forze, è così convincente. Già, 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 già. Andiamo avanti. Oh. Ok, stiamo alla chiave del team Galassia. La porta si è aperta. Pokéball? Io scelgo te, Pokémon. Magibrillio. Inferno, ne permettiamo. Eh, porta spazio inferno. Eccolo! Bello. Allora. Qua perché non si può andare. Ok. Questo è quando usciamo dall'edificio. Perfetto. Infatti mi ricordavo bene. Si spegne la luce quando entriamo. Ci vogliono fare la sorpresona. Ecco qua, siamo alla chiave del team Galassia. Ce lo segnano anche, non è il punto per usare la chiave. Geni. Ok. Ah, era in doppio! Volevo fermarmi e poi ho detto, Continuo, magari si gira all'ultimo. E invece non si è girato. Peccato. Più punti per Elzy. Ora che questi due sono sistemati, possiamo proseguire indisturbati. Dato che devo andare qui, perché c'è il simbolo Galassia, il motto è diverso? Ah, sala tv, sistema audio e video all'avanguardia, solo per i membri autorizzati. Ohi. Ma come? Ma stai guardando la tv e mi vuoi spiudare? Ah, perché l'ho interrotto. Ora che ci penso però, qui sono giustificate le piattaforme di teletrasporto. Negli altri giochi no, non hanno senso. Niente, è vuota? Ah, vedi che c'è allora? Allora, o è di là e non l'ho preso prima, ma non mi pare. Non lo so, non lo trovo. Comunque, andiamo di qua. Di qua che c'è? Interessante. SkyMoto e Team Galassia. Vabbè, dopo ci ritorno magari. Ah, qui c'è la sfera? Yeah! Revitalizzante Max. Ci sarebbe anche Vitalerba che fa recuperare tutti quanti i PS ad un Pokémon esausto. E per giocare, insomma, senza avere i bonus dell'affetto, non dell'amicizia, dell'affetto. È molto buono. Quindi, si trovano a Devopoli le erbe, quindi compratele. Ah, potevo anche riposarmi qui? Vabbè. Centro Pokémon sono andato, quindi è uguale. Stanza Relax. Assicurarsi che il letto non sia occupato. Beh, sì. Buonjour. Ti sarei venuto a scorrazzare liberamente nel cover del Team Galassia Mocciosetto? Beh, abbastanza. E il tuo allenatore è insignificante. Mi dicono sempre se è insignificante, non combinerai niente, poi gli sfascio la famiglia. Sistemati questi due scappati di casa, possiamo andare avanti. Non dovrebbero essercene altri, direi proprio cavoli. Ah, un indizio sul quale sia quella giusta, così evito di prenderla subito. No. Ok, qui cosa? Ok, la Poké Ball. Eri Seer. Mentre questa dove ci porta? Sono curioso. Nel nulla. Niente, questa è anche scenografia questa? Non so che dire sul fatto di ricerca strumenti, forse ha fatto male. Non lo so. L'ho usato poche volte e si è rivelato affidabile, ma... Questa maniera? Non so che dire. Entriamo. Usiamo la chiave speciale. Ah, tu sei l'allenatore di cui ho sentito parlare, quindi. Il folle che sta cercando di ostacolare il team Galassia. Anche se non mi aspettavo di trovarmi davanti un ragazzino. Ho sentito che ero il fiore da torcere ai nostri comandanti. So perché sei qui. Lo sento. Si tratta di Uxie, Mestret e Azalf, vero? A me non servono più. Con loro ho finito. Se vuoi davvero salvarli, allora accomodati. A me non importa. Mi risparmierò il disturbo di liberarmi di loro. Ma sappi una cosa. Sei un tipo strano. Tu non hai niente a che fare con questi Pokémon, non è vero? Sei qui per salvarli per pura compassione? Che sentimento patatico inutile. Irrazionale e assurdo. La pietà e la compassione sono frutto di un animo debole. Sono sentimenti inutili come quello che ti ha spinto fin qui. Ti farò pentire di questo tuo slancio di bontà. Bella la host. Bello anche lo sfondo con la supernova dietro. O è un quasar? Ma è un quasar quello perché c'è fascio di luce in mezzo. Mi pare che sia un quasar. Andiamo con acqua di sale, ma... Attacco solo, ci volevo. Lo sapevo. Con acqua di sale. Ok. Golbat, no? Golbat rimango. Beh. Beh. Provocazione, sì. Non ti preoccupare. Non uso mosse diverse da un attacco. La po' bella sta host. Cazzatissimo lui. Questo è il mio ultimo Pokémon. Che me ne frega. Però non capisco una cosa. Ha detto. A me dei Pokémon dei laghi non me ne frega niente. E se vuoi salvarli... Salvali, non mi importa. Però siccome adesso li salvo per compassione, allora non va bene, dobbiamo combattere. Meno male che era un brutto colpo. Altrimenti mi sarei preoccupato perché non l'ha mandato K.O. Ah, 43. Ah. Capisco. Se la lotta continuerà di questo passo potrei perdere. Ah, questo piccolo... Cioè, non è anche parla. Proprio fa... La... Non so, faccio con la testa. Beh. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. E i Pokémon, se vanno con un allenatore cattivo, diventano cattivi. Che risultato inatteso, ma molto interessante. È contento di aver perso. Lo ammetto, sei proprio forte. E alla base della tua forza c'è la tua compassione verso i Pokémon. Che spreco. Questi sentimenti sono pure illusioni. E come tutte le illusioni, sono destinati a scomparire col tempo, finché la morte non li cancella per sempre. Ecco perché ho abbandonato tutti i sentimenti inutili e patetici. Ma non importa. Dubito che potrei mai capire la mia posizione. Detto questo, riconosco la tua forza e il tuo coraggio nell'arrivare fin qui. Ecco la tua ricompensa. Ehi ragazzo, sei forte, mi hai battuto. Tieni una Poké Ball. La Poké Ball che può catturare qualsiasi Pokémon senza il minimo sforzo. Ecco, per l'appunto. Ma a me non serve. Io non faccio amicizia con i Pokémon. Uh, che bruciore. Cyrus. Non sono nemmeno come gli altri membri del Team Galassia. Non uso i Pokémon come strumenti. Ah! In possesso del loro potere. Al contrario, in possesso del loro potere. Se vuoi salvare i Pokémon dei laghi, usa il teletrasporto. Io vado al Monte Corona. Esatto, proprio al Monte Corona. Dove ci siamo incontrati per la prima volta. Salirò fino in cima alla montagna e metterò fine a tutto. Anzi, no. Darà un nuovo inizio ad ogni cosa. Quindi il discorso di Cyrus c'era solo... Nei vecchi gio... Nel... In Platino, voglio dire. Era... Sì, content esclusivo. Così come Plutinio. Questo esperimento si è spinto fin troppo in là. Che Cyrus stesse cercando di portare avanti... L'esperimento di Fuji, della clonazione? O che... Stesse cercando di replicare quello che accadde all'inizio con la creazione dei Pokémon? Creazione dei Pokémon. È tutta la vedere. Se non è evoluzione come... Quella che... Ci fanno studiare a scuola. Non posso dire niente alla nostra discolpa. Ma quello che abbiamo costruito... Cosa serviva? Eh... Eh... La bomba. Oh no. È intrappolato. Sembra che stia soffrendo. Tiene gli occhi chiusi. Ma lui sempre. Contrae le code. Buon arrivo, eh. Trema dalla paura. Cicciopasticcio. Cosa? Hai fatto tutta questa strada per salvare dei Pokémon? Non è la prima volta. Ma davvero non capisco cosa abbia in testa il capo. Perché dovrebbe lasciare un bambino come te girare liberamente qui? Noi del Team Galassia prendiamo tutto ciò che ci serve. E buttiamo quello che non ci serve. Ma veniamo a noi. Ormai sei qui. Voglio darti un benvenuto come solo il Team Galassia sa fare. Considero il loro esercimento per avermi insultato al lago. Lotta quanto superflua. È giusto che ci fossero delle guardie a capo. Ma un comandante? Bah. Lo trovo superfluo. Però ok. Sto allenamento. Dunque Cadabra è andato giù con un attacco solo. Mentre per Toxicroak pallombra non è bastata. Mi ha anche avvelenato. Quindi cambiamo. Andiamo a Acti Acti. Almeno non riceve danno da mosse vereno. Furto. Sì. Anche Svigo attacco. A mosse buio. In effetti un Toxicroak. E anche lotta. Veramente. Quindi vorrei fare una cosa veloce. E potrebbe avere pelle arsa e non ve le intocco. Vediamo un po'. Sì. Wow. Cambiamo. Cambiamo. Anastia. Anastia. Vieni in campo cara. E qua ci vuole la tua forza bruta. Ci vogliono le botte qui. Eh breccia fa un danno normale. Però una breccia qui. Ti spacca tutto. Ti spacca le scapole e finisce in un attimo. Potevo fare acrobazia ma... Ruota a fuoco è più che sufficiente. Vogliamo subito usare acrobazia? No. Teniamocela per un momento... Che non arriverà mai. Alla lega dai. E anche bronzor. Bronzor anche ruota a fuoco e... Good game. GG. Ma veramente ha giocato male. Quindi GG no. Dopo no. Piccolo bronzor. Che inutile che sei diventato. Questi giochi. Ci sai proprio fare. Ma non posso che provare pietà per le persone come te. Sì loro. Nonostante ci prendano i calci in culo. Eh però... No. Tu non puoi essere forte. No. Provo solo pena. Prima il pulsante su quella macchina per liberarli. Non so qui per questo. Certo. No guarda il pulsante lo lascio stare. Non c'ho voglia. Sì forza. Il nostro capo ha creato una catena rossa. Con i cristalli ricavati tra i Pokémon. Come una catena rossa? Una rosso catena. È un oggetto proprio rosso catena. Gli serviva per legare qualcosa sul Monte Corona. Ma non so altro. Chissà cosa stanno pianificando lassù. Andiamo a vederlo. Nel prossimo episodio però. Quindi. Per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale. Magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye. Ciao. 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 Grazie a tutti.